La prima riga di cocaina non ho sentito niente. Inizio a sentire questa euforia, questa carica. Era più facile stare in mezzo al gruppo perché comunque ero più forte. Mi aiutava ad affrontare inizialmente la giornata e soprattutto i problemi. Anche il fatto di parlare con la gente, che era una persona timida. Ti sentivi onnipotente, nessuno poteva toccarti. Il diavolo fatto persona è entrato nella mia vita. Con cui ho cominciato a fare un uso molto forte di droga. Ho iniziato a usare il crack, che è un mostro. Che tu ti metti dentro e non te lo togli. È difficilissimo. Ho incontrato questo ragazzo, Samuel. Una sera mi tira fuori l'eroina e mi fa vuoi provare? Per lì ho pensato, ho detto, tanto cosa vuoi che sia? Cioè, una volta e dopo non lo faccio più. Ciao. Ciao.